Buongiorno a tutti. Ed ieri la notizia che circa 8.000 domande di infermieri sono arrivate alla protezione civile per essere pronti a partire laddove il Paese chiama. Gli italiani hanno un cuore grande. Stessa scena c'è stata la settimana scorsa con la risposta di medici di tutte le età, medici giovani appena specializzati, medici già in pensione, pronti a lasciare la propria sicurezza per andare ad aiutare il prossimo, per aiutare il nostro grande Paese. Di questo abbiamo parlato ai microfoni di Ok Italia Parliamone con un'amica, con la giornalista Rai Daniela Pulci, da sempre impagnata in cronaca in eventi anche difficili che ci sono stati nel nostro Paese e la Daniela Pulci per noi ha fatto un ritratto del grande cuore del nostro Paese, del grande cuore degli italiani, sempre pronti a mettersi in gioco. Vediamo il contributo di Daniela Pulci. Oggi voglio fare questa riflessione. Anche ieri sera sono arrivate 8.000 domande alla protezione civile per fare gli infermieri nelle zone, lasciatemelo dire, di guerra per affrontare questo virus. Altrettanto settimana scorsa sono arrivate anche lì 8.000 domande per medici sapendo che vanno al fronte. Ma la cosa che mi ha colpito è che questi medici a volte erano anche in pensione. Allo stesso dicasi per gli infermieri, gente che poteva starsene tranquillamente a casa e che invece decidono di andare ad aiutare. Si può dire, eh beh, è il loro dovere, sono medici, sono infermieri, no? Qui non c'è il dovere, qui c'è il cuore. Quel cuore degli italiani che in tanti anni di cronaca, raccontando migliaia di storie di noi italiani, mi hanno sempre colpito. Una fra tutte, vi racconto quella di un imprenditore su Alnord, che nei momenti di crisi economica, parliamo di qualche anno fa, in cui stavano perdendo tutto, beh, questo imprenditore non ha esitato a vendere delle sue proprietà pur di far, di non mandare a casa i suoi operai che lavoravano per lui, perché sapevano, sapeva che avrebbero veramente avuto delle difficoltà enormi. Bene, questo cuore io l'ho portato a casa e ho detto a cavolo, ma perché in televisione escono così poco queste storie di questi italiani che hanno mandato avanti aziende agricole, magari anche lottando contro una burocrazia ottusa e spesso cieca. Eppure sono andate avanti e questo è, diciamo, il substrato degli italiani che mandano avanti questa nostra patria sapendo veramente che a volte è dura lottare contro le difficoltà. Io la sto ritrovando adesso e non solo, un'altra notizia mi ha colpito abbastanza in questi giorni, quella di gli chef stellati. Sapete che ovviamente in fiera a Milano stanno costruendo proprio velocemente questo ospedale e questi chef stellati che ovviamente hanno chiuso il loro ristorante, come tutti del resto, sono lì a sfamare, a far da mangiare gli operai che lavorano per 24 ore su 24, i medici, i tecnici, tutti coloro che stanno veramente adoperandosi per aiutare tutta questa gente colpita da questo virus. Ecco, questa veramente è una cosa che mi sta, nonostante il dolore di quello che sta accadendo, mi sta dando il senso di forse di tutto quello che sta accadendo. Questa Italia che sta uscendo fuori, l'Italia dignitosa, quella che ho conosciuto anche nonostante il dolore delle perdite di persone care, parlo dei terremoti del centro Italia, parlo del crollo dell'hotel Rigopiano, dove ho veramente raccontato la dignità, la dignità di saper sopportare e affrontare il dolore senza lamentarsi. Bene, la sto ritrovando adesso, la sto ritrovando con qualche lacrimuccia che mi viene fuori quando vedo i video delle bellezze della nostra Italia, quando sento cantare l'inno, sì, forse sarà un po' di retorica, saremo un po' forse anche stufi di stare dentro casa, però è una cosa bella, è una cosa bella perché spero davvero che da tutto questo dolore esca la voglia di essere di nuovo quelli che siamo, generosi, altruisti, pieni di slancio e di dignità. Questo è l'augurio che mi faccio oggi. Ringraziamo Danila Pulci per la sua analisi dei fatti di questi giorni, ma soprattutto per la sua grande umanità e per la sua chiarezza nel raccontarci quello che stiamo vivendo in questi giorni. Arrivederci al prossimo contributo.